Non c'è più sala d'attesa, io ho anche un dipendente quindi ci alterneremo, io farò un orario più ampio per dare più possibilità a tutti di venire. All'entrata c'è un sanificatore per le mani e c'è anche i guanti. C'è voglia di ripartire anche nel settore estetica. Antonella Ursini, presidente estetista CNA Pisa, ad oggi sa di poter riaprire solo dal 3 giugno, anche se si chiede perché non prima, considerato che vengono messe in campo tutte le misure di igiene e sicurezza. Metterò la cuffietta per i capelli, per raccogliere i capelli, poi avremo questo schermo in plessiglass, dopodiché verrà applicato così, saremo un po' marziani ma comunque va bene ugualmente. I guanti, i guanti per noi vanno bene sempre perché noi guanti li usiamo sempre, la mascherina come già vedete e dopodiché anche il kimono monouso. Diciamo che se prima ne facevamo 15 oggi ne facciamo 6-7.